E per te, per me, per la figlia dell'Ure E per te, per me, e per te, per me, per la figlia dell'Ure La taranta per il camo e ti piscica lungo La taranta per il camo e ti piscica lungo La taranta per il camo e ti piscica La taranta per il camo e ti piscica lungo La taranta per il camo e ti piscica lungo La taranta per il camo e ti piscica lungo La taranta per il camo e ti piscica lungo La taranta per il camo e ti piscica lungo Grazie a tutti. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. A Natale puoi ripartire da zero e star vicino alle persone che ami per davvero. E non importa il regalo ma il pensiero, sei un amico vero, basta un abbraccio sincero. A Natale puoi regalare un bacio, il suo calore potrà sciogliere anche il ghiaccio. Vedrai, non lo dimenticherai perché ti farà battere il cuore come non lo ha fatto mai. A Natale puoi aiutare chi ne ha bisogno, a volte serve poco per regalare un sogno. A Natale puoi dare il meglio di te per fare sorridere che è il regalo più bello che c'è. A Natale puoi ricordare chi se n'è andato e sentir la sua mancanza pensando a un Natale passato. Tanti auguri a voi che esiste lassù, buon Natale agli angeli del cielo blu. A Natale puoi decidere di cambiare e perdonare chi ti ha fatto del male. A Natale puoi fermarti a pensare, a Natale puoi sperare e immaginare un mondo in cui ogni uomo è uguale. Dove la pace in ogni luogo sulla terra è reale e pregare per chi in questo momento si trova in difficoltà. Augurare a chi ha meno fortuna, tanta felicità e chi è solo di trovare la sua metà. Quella che ti dà ogni giorno serenità, perché quando hai qualcuno al tuo fianco sparisce ogni lacrima e cancella ogni pianto. A Natale puoi stare insieme, a Natale puoi dire ti voglio bene. A Natale puoi prenderla per mano, guardarla negli occhi e dirle ti amo. A Natale puoi dire quello che non dici mai, puoi regalare tutto l'amore che hai. Perché è Natale, a Natale si può fare di più. Si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. Si può amare di più. Complimenti per la copertina al nostro Fabio, al nostro regista. Sarà un Natale diverso per tanti, sarà un Natale diverso per gli ex 14 impiegati dell'ente fiera che qualcuno aveva sotterrato. E qualcuno invece come il capo dell'ispettorato del lavoro, Gaetano Sciacca, ha riesumato tenendo accesa sempre una speranza. Ora, dopo anni di disoccupazione, hanno un lavoro stabile. Sarà un Natale diverso per i 51.000, badate bene, 325 disoccupati della provincia di Messina. Sarà un Natale diverso per le 5.400 aziende che negli ultimi anni sono state sbaranate letteralmente dalla crisi. Sarà diverso per i migranti, avete visto anche in copertina che sul canale di Sicilia hanno perso famiglie e amici e attendono lumi sul proprio futuro in una camerata comunque ben diversa dalle prigioni libiche. Sarà un Natale diverso per le 318 famiglie che in provincia di Messina nel cassetto hanno una sentenza di sfratto e non hanno il regalo sotto l'albero. Non sarà un Natale felice per quelle famiglie che i figli emigrati, ne vanno via circa 2.000 all'anno nella sua città di Messina, li potranno vedere su Skype. Sarà un Natale diverso per gli assistiti dell'associazione H. Gaia, che l'Istituto Autonomo Case Popolari, pensate, ha sfrattato per morosità. Come si fa? Sarà un Natale diverso per i politici trombati, quelli che alle ultime regionali non hanno ottenuto un seggio, che peccato, e hanno perso un posto di lavoro che ritenevano sicuro perché sempre quello hanno fatto loro. Loro ci fanno meno tenerezza dei disoccupati. Il titolo della puntata di questa sera è Diversamente Natale. Io vi presento molto velocemente gli ospiti e poi andiamo al primo spazio di libertà. Buonasera a Rosario Confessore, pastore della Chiesa Valdese, è un grande piacere averla con noi. Grazie. Buonasera al vice sindaco Gaetano Cacciola, assessore alla viabilità. Buonasera al presidente del quarto quartiere, Francesco Palano Quero. Buonasera ad Alessandro Tinaglia, leader della formazione Reset, ormai confluita nei democratici riformisti di Beppe Picciolo. Mi corregga se sbaglio. Buonasera. È un grande piacere accogliere unica donna della puntata, lei dice anche unica esponente del centrodestra questa sera, Emilia Barrile, presidente del Consiglio Comunale. Buonasera al consigliere del sesto quartiere, per la prima volta a Malalingua, Massimo Costasso. Buonasera a Marco Bellantone, da infiltrato speciale ha conquistato piano piano un posto. Lui è presidente dell'associazione Piazza Cairoli, poi ci spiegherà quali sono gli intenti dell'associazione. Buonasera, alla mia spalla c'è Saro Pizzino, unico superstite di questo freddo del gruppo degli sponsor. Andiamo agli spazi di libertà. E allora buonasera e bentrovati, benvenuti a Malalingua. Noi cerchiamo subito di entrare nel clima natalizio, perché la nostra babba natale, Barbara Turati, ci porta in questa atmosfera natalizia. L'associazione Le Vetrine di Via Garibaldi ha fatto un'opera davvero meritoria, ha allestito in tempo record un piccolo spazio, naturalmente non godeva di grossi contributi, ma è riuscito a fare una cosa carina, babbo natale, tutto in house. Barbara? Sì Emilio, ti sento. Vorrei salutare tutti intanto e vorrei fare un regalo agli ospiti studio e ai nostri spettatori. Prego, prego. E' un batterino. Non lo dico. E' un batterino. Non lo dico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro simpatico signore che si chiama? Orazio. Bravo, bravo, bravo. Accanto a me Emilio ho Lillo Valvieri che rappresenta l'associazione Le Vetrine di Via Garibaldi. Che ha rivitalizzato questa via Garibaldi, l'ha rivitalizzata e l'ha fatta rinascere. Prego. Buonasera a tutti allo studio, grazie per la possibilità che mi avete dato per rappresentare questa nostra via. In pratica noi dell'associazione Le Vetrine di Via Garibaldi vogliamo potenziare il nostro territorio perché abbiamo la nostra città, abbiamo i nostri cittadini e amiamo anche le nostre attività che devono fiorire perché la crisi ci sta mangiando a tutti quanti. E noi imprenditori faremo di tutto per risollevare la via Garibaldi, la città di Messina e noi stessi. E vogliamo anche che qualcuno, non solo noi commercianti, artigiani, ma devono essere loro stessi a potenziare la nostra città, alla regione e alla nazione. E devono portare i soldi a Messina perché i messinesi valgono e valgono tutti. Grazie, grazie. Volevo chiedere ma cosa avete organizzato? No, è bello perché è ciugino Lillo Valvieri e dice le cose con grande sentimento in maniera accorata. Che cosa avete organizzato Lillo anche visto che ci stanno seguendo da casa? Noi abbiamo regalato alla città, noi imprenditori, abbiamo regalato la casa di Babbo Natale e abbiamo fatto sognare i nostri figli perché loro sono il nostro futuro e noi dobbiamo puntare su di loro. Però il presente è quello che dobbiamo potenziare perché se non c'è il presente non c'è il futuro. E i nostri figli devono essere ricchi e noi li dobbiamo sostenere e non solo noi, anche chi ci rappresenta. Io faccio proprio un grido di urlo perché la crisi deve finire qui a Messina, perché Messina è la nostra città che amiamo tanto e noi non ce ne vogliamo andare dalla nostra città. Se ne devono andare quelli che non manno, non noi, noi valiamo. Grazie, 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 grazie Lillo. Barbara, che capiamo anche l'appello, l'abbiamo raccolto di Lillo Valvieri. Ma cosa è successo? Ci vuoi raccontare? Io tra l'altro, Emilio, vorrei qui vicino a me, Maria Proscia, che è praticamente colei che ha organizzato i vari appuntamenti che si susseguiranno qui in via Garibaldi fino a praticamente le festività. Vorrei che Maria ci spiegasse che cosa i cittadini possono trovare in via Garibaldi in questi giorni. Buonasera a tutti, sì, sì, grazie Barbara. Allora, io volevo dire a tutti che in queste serate stiamo facendo tantissime manifestazioni per la casa di Babbo Natale. Stiamo sostenendo davvero grandi le associazioni e le vetrine di via Garibaldi. Noi domani faremo un altro evento di Zumba Fitness. Ci saranno tanti a scuole di ballo, tantissima gente. Stasera abbiamo avuto anche delle scuole di ballo. e stiamo cercando sempre di portare movimento in questa zona davvero grande. Scusa Barbara, Babbo Natale dove è? Sentiva freddo e se ne è andata a casa. Non c'è, non lo vedo. Sì, no, c'è Babbo Natale, scusami. Ce lo fai vedere questo Babbo Natale. Adesso io vorrei fare una cosa. C'è qui un mio collega che adesso intervisterà per noi Babbo Natale. No, mamma mia, sì. Ecco, scusatemi, io gli metto l'auricolare, gli passo il microfono, mi sposto insieme a lui. Scusami, ecco qua. Oh, è caduto! Vabbè, 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 dai. Forza. Ce la possiamo fare? Velocemente. Velocemente, avanti. Andrea. È tutto pronto per la vigilia di Natale? Sì, tutto pronto. Sì. Come fa a fare il giro del mondo in una notte? Sono magico io. Con un po' birina magica giro tutto e porto tutti i regalini. Dove hai parcheggiato le renne? Le renne, però, ce l'ho in campagna, l'ho lasciato qui in campagna. Me lo posso posteggiare qui sotto, dove le porteggio? Ok. Un saluto e un augurio a tutti i bambini d'Andrea. Grazie, grazie. Sì, io vorrei far fare anche un saluto per tutti i bambini da Babbo Natale. A tutti i bambini, anzi, quelle ricoverate all'ospedale, tutti i bambini ammalati. Questa è la prima cosa che faccio proprio agli auguri di Natale. Bravo. Tanti saluti alle bambini. Bravo, bravo, bravo. Grazie a Babbo Natale. Grazie. Tutti gli ammalati. Ricordiamo che questo spazio è proprio accanto alla chiesa di San Giuliano, no? In quell'area transennata. Grazie, Barbara. Sì. Grazie. Grazie a te, Emilio. Grazie a Emilio Valvieri, grazie agli associati dell'associazione della Via Garibaldi, le vetrine di Via Garibaldi. Grazie. Sono iniziative queste private. Certo, là non hanno la ruota di Piazza Cairoli, ma è comunque uno spazio carino, no? Che fa vivere il Natale. Parano Guerra. Sì, buonasera. Intanto è uno spazio carino, è uno spazio, diciamo, di cui ci siamo, si sono, ci siamo riappropriati grazie a questa iniziativa di mi pare 28 attività commerciali che stanno in quell'ambito territoriale che ovviamente è vicino alla chiesa di San Giuliano e che seppure con poche risorse abbiamo anche voluto sostenere con il mio consiglio, con una piccola, con un obolo, diciamo così, con un gettone delle risorse che l'amministrazione ha voluto diciamo destinare alle circoscrizioni nell'ambito delle manifestazioni di Natale. Lo abbiamo fatto perché tra le altre quella è una zona che grazie a questa iniziativa fino al 6 gennaio sta avendo delle attività che sono di richiamo per i bambini e le famiglie e quindi abbiamo creduto e credo che questo sia anche una... Ma mai come quest'anno ci sono state tante iniziative? Dico, Messina in qualche modo si è accesa in questo Natale, quindi qui abbiamo visto la casa di Babbo Natale, Piazza Chiroli, la ruota che ha suscitato tante polemiche e critiche, comunque c'è anche il villaggetto sotto che ricorda un po' lo street food di qualche settimana fa, Piazza Castronomo se non sbaglio c'è un altro mercatino, non sono i quartieri periferici, adesso ce lo dirà anche il consigliere del sesto quartiere. Assessore Cacciolo, che è successo improvvisamente? Sono arrivati i soldini, c'è la campagna elettorale che incombe, che è successo? Probabilmente... Buonasera intanto... Buonasera, Assessore. Probabilmente c'è stato un maggiore dialogo tra i vari attori o protagonisti in questo caso perché si sono susseguite più incontri con l'amministrazione, con il commercio, con i esercenti, i quartieri, diciamo c'è stata una collaborazione più attiva, ognuno ha voluto fare la sua parte... Quanto avete investito quest'anno nelle... Esattamente... Mi pare 25 mila euro? No, forse qualcosetto in più. Però diciamo che il maggiore investimento è stato fatto anche da... Soprattutto dai commercianti, dai privati, sì. Ci sono stati degli sponsor, che comunque hanno andato più che altro, hanno cercato di fare una sorta di organizzazione generale, ma diciamo l'impegno economico è stato più che altro da parte dei commercianti. Ma, Store Confessore, tutto questo serve a fare Natale, insomma, ad allestire un Natale per i messinesi, oppure le cifre che ho dato poco fa stridono con queste spese, diciamo, con la povertà, con il numero dei licenziati, con il numero dei baraccati, insomma queste risorse si potevano utilizzare diversamente. Io non ho gli strumenti per poter dire se quello che è stato fatto poteva essere fatto in maniera migliore, però posso semplicemente dire che il Natale, per dare un elemento, diciamo, il Natale ha al centro l'immagine di Gesù, di un bambino, dunque di un essere piccolo, indifeso, fragile, di cui bisogna prendersi cura. Un bambino che può crescere, ma sempre che venga in qualche modo accolto. Allora, tutti quei segnali che indicano un comportamento di cura e di assunzione di responsabilità da parte di tutti sono segnali che vanno nella direzione del Natale, che non è solo un evento puntuale, ma un impegno chiaramente che poi chi fa politica deve assumersi in un arco di tempo con una progettualità. Quindi accendere la città è anche un prendersi cura, no? Dei bambini, rendere il Natale... Assolutamente, purché però sia, non appartenga a quella liturgia del momento che si esaurisce nel momento. Cioè voglio dire, ciò che si fa in qualche modo deve essere anche un... deve essere un segnale di prospettiva, cioè deve essere un impegno non soltanto ovviamente della festività, perché chiaramente noi viviamo in una realtà dove tutto è consumato, si consuma anche il Natale. A Natale puoi hai uno slogan della pubblicità e rischia di essere soltanto uno slogan appunto di una liturgia che in qualche modo poi non apre a una prospettiva di senso. È chiaro che ciò che oggi viviamo come il Natale, un momento di gioia, un momento di bontà deve avere in qualche modo un respiro più ampio che non è solo quello della festa. È chiaro che la politica qui ha il compito, ha il dovere di progettare e di impegnarsi in maniera seria nei tempi medi e lunghi che sono quelli della costruzione. Noi tra poco conosceremo anche un Natale più triste, diverso, no? Barbara Turati ci porterà anche in realtà molto più tristi della città. È bella da un certo punto di vista perché ci farà conoscere il volontariato che si aggira nella notte in questa città e che supplisce anche le carenze enormi delle istituzioni. Alessandro Di Naglia, però devo dire che c'è un riscoperto senso civico, no? Da questo punto di vista, un fiorire di associazione, abbiamo visto le vetrine di Via Garibaldi che da sole con un contributo, diceva Palano Quero, mi pare di un qualche centinaio di euro, 500 euro, loro ne hanno spese molto di più, naturalmente la casetta, questo, quello, però... Il problema è in più di spesa, erano 8-5 mila euro. Sì, e ci sono tante altre associazioni, privati, sponsor, che sta succedendo a Messina? Ma io credo che il pastore abbia centrato perfettamente la questione, cioè sono segnali di... sono grida d'allarme, sono ricerca di aiuto. I commercianti si smuomono perché vedono che nulla si muove, manca programmazione, manca organizzazione, per cui tutte quelle iniziative, per quanto, per esempio, possono piacere o meno, hanno a mio avviso da un lato un grande elemento di qualità, che è l'impegno e la volontà dei privati... Sì, ho letto provocazione anche, l'ha sentito come era accorato il Presidente. Io ci arrivo e tra l'altro il Presidente vorrei parlare, perché credo che da un lato appunto questo urlo e questa volontà di impegnarsi sia un fatto assolutamente positivo che va incentivato al di là dell'impegno economico, cioè la partecipazione in un momento di grande crisi quando non si vedono sbocchi. Dall'altro lato c'è una mancanza totale di organizzazione di queste questioni che vengono legati alla volontà dei cittadini, per cui io questa grande orchestra non l'ho vista. Mentre ho visto, e mi piace tantissimo avere visto il Presidente che non conosco, Lillo Valvieri, ma che mi fa molto piacere vedere, perché finalmente vedo la reazione. I messinesi reagiscono, i messinesi sono stanchi di aspettare che qualcun altro faccia per loro ciò che deve, e chiedono giustamente che la politica faccia ciò che deve. E' fantastico, questa è veramente la vera novità. Finalmente i messinesi non aspettano il Messia, non aspettano il Santone, vogliono e pretendono da chi è deputato a fare delle cose che le facciano. Semplicissimo, quindi meno male che c'è qualcuno che reagisce. Finalmente, oltre alla reazione c'è anche la proposta, quindi credo che sia un evento, un momento che va assolutamente stimolato e nel quale bisogna invece avviare un discorso che vada al di là dell'aspetto elettorale ma che ci prepari alle prossime elezioni. Bene sta facendo l'amministrazione, no no no, in generale, per questo Natale? Io l'ho detto, secondo me l'amministrazione ha mancato anche in questo caso di programmazione. Io credo che se tu vai sotto la ruota, può piacere o meno, però trovi la ruota di Piazza Caneroi. Sì, trovi la transenne, trovi il nastro bianco e rosso, ti sembra di stare in un mercato, è lo stesso discorso intorno all'albero. Lei sulla ruota c'è salito? No, io non ci sono salito, ma non perché non abbia piacere ad andarci, probabilmente lo farò anche. No, semplicemente non ho avuto il tempo. Diciamo che mi ha molto colpito un evento, passavo di là il giorno prima che venisse accesa la ruota e ho trovato circa 200 persone a bocca aperta che guardavano e pensavo, ho detto, cavolo, adesso parte, no? Quindi aspetto. Mi sono avvicinato e dopo mezz'oretta che parlavo con qualcuno ho chiesto a uno ma scusami tu che cavolo guardi? Perché mi devo che guardavo questa cosa spenta. È sintomatico insomma. E la risposta è stata, non c'è niente, finalmente c'è qualcosa. Mi vado a ruota, ferma ma me la guardo. Che è un altro, cioè dico, sembra banale, sembra scontato, ma è, credo che quello che... Io ho parlato con qualcuno, però erano messi con la testa così, guardavano, la ruota spenta. C'erano almeno un centinaio di persone, proprio come se sono... È una situazione surreale. No, ma non è surreale, credo che dia però la misura di questa mancanza di occasioni. Sai lo street food che è un fatto, a mio avviso, dico, grandissimo risultato, ma a mio avviso dal punto di vista qualitativo dell'immagine delle cose non era bellissimo. Però c'erano migliaia e migliaia di persone, cioè quando a Messina si fa qualcosa la città risponde perché vuole partecipare, ci vuole essere. E allora la politica deve smuoversi, deve smettere di ragionare dicendo che tutti hanno governato bene, sono tutti bravi, sono tutti quanti capaci, hanno tutti fatto bene. Allora, questa città sta morendo. È il momento di mettersi tutti assieme a trovare le soluzioni per cambiarla. A giugno, a maggio si voterà in questa città. Non possiamo aspettare le regionali, le nazionali. Lei sarà candidato? Io parteciperò alle elezioni, non so se sarà candidato. Ci sarà il suo candidato? Non lo so, no. Forse passerà dalle primarie. In questo momento sarebbe più interessante capire se riusciamo a trovare una sintesi di un programma attraverso una serie di iniziative che pensino finalmente ai problemi della città e che partono dai dati che lei ha giustamente ricordato, la quantità di persone che vanno via, le occasioni che perdiamo. Nonostante ci sia un'università che finalmente sembra essersi messa nuovamente in moto, ci sono queste due velocità strane, quella dell'amministrazione in generale, penso alla città metropolitana, penso al comune, penso anche ai comuni della provincia, non è soltanto il comune di Messina. E penso invece alla velocità dell'università. Allora, siccome le qualità ci sono, la competenza c'è, la voglia c'è, le persone che vogliono risultati e che vogliono partecipare ci sono. Allora, è il momento di veramente provare a riaprire una serena discussione sulle soluzioni. Basta parlare di chi è la colpa, io mi sono ripromesso che non dirò mai più di chi è la colpa, almeno lo dirò nei prossimi sei mesi, e sono pronto a confrontarmi con chiunque sulle questioni, dobbiamo risolvere i problemi, e credo sia l'unico approccio responsabile che chi vuole fare politica, vuole partecipare, è cambiato Tinaglia, è cambiato, strada facendo, strada facendo è cambiato. No, non hai microfonato, però il microfono ce l'ha accanto, ce l'ho tirata a poco. Vedo fremere Emilia Barrile, che vorrà dire sicuramente delle cose, spazi di libertà. Diversamente Natale è il titolo di questa puntata, ma io non ho capito, Tinaglia è la Presidentessa Barrile, su cosa si stanno scegliando? Su tutto. Chi è inadeguato? No, non stavamo parlando di inadeguatezze. Ho sentito i... No, no, tranquillo, non stiamo parlando di domande precise, io ti rispondo. E chi è inadeguato culturalmente? No, mi sono permesso di dire che a mio avviso, chi fa politica in una certa maniera, all'interno del Consiglio Comunale, non dovrebbe, come una volta succedeva, che la selezione della classe dirigente avveniva non in base alla quantità di voti che potevi portare, ma alla qualità e alle proposte che potevi portare. E questo Consiglio Comunale è inadeguato? A mio avviso, no, ho detto che ci sono alcuni consiglieri che... Infatti la qualità ha scelta... Siccome questa cosa ha irritato la Presidente, ma anche con la quale abbiamo poche cose, pochi punti in comune, punto di vista politico come concetto, io credo che sia legittimo, e non penso di criticare qualcuno, quando dico che penso e mi immagino che la nuova classe dirigente del possibile Consiglio Comunale debba essere selezionata dalla politica attraverso altri sistemi. Che non può essere, io siccome sono conosciuto, ho molti amici, faccio molti favori in un posto, oppure per carità sono anche, diciamo, famoso in quel posto, dovrebbe essere il partito, la politica a scegliere chi sono i rappresentanti. Come ha fatto finora? No, fino a cinque anni fa era così. No, 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 sono vent'anni che non lo fa veramente. No, non è così negli ultimi due anni perché abbiamo una gestione diversa della politica. Sono vent'anni che non è così. Fino a dieci anni fa, me lo ricordo io sulla mia pelle, fino al 2006 erano i partiti e le segreterie che sceglievano i candidati e si vede il risultato di come è Messina, di come è la Sicilia e di come è l'Italia. Abbiamo visto altre cose. Che fino adesso l'ha scelto sempre la politica, chi? I figli di, e non la gente del popolo. Quindi se tu mi parli delle segreterie, le segreterie scelgono sempre quelle delle stanze dei bottoni. Assolutamente no. Non è così, andiamo a prendere di 30 anni, di 50 anni adesso chi ha fatto politica. Ma io prenderei il Consiglio Comunale di 30 anni fa e quello attuale. Certo, e chi c'era? E' proprio... Fai l'analisi di chi c'erano, i figli di deputati o i figli di onore, o di persone che poi sono stati messi nei listini a fare deputati e l'onore. Ma i listini non c'erano, i listini sono arrivati dopo. Ma che stai dicendo? Certo, quando sceglievano... Le nomine avvengono dopo. La politica ha smesso... Va bene, facciamo un'altra puntata su questo. Ma dire che... Facciamo un'altra puntata sulla politica e figli di dati. Ma sicuramente... I migliori è fantastico, una barzelletta. Presidente Barrile, come sta? Come sta lavorando? Ma infatti scegliendo gli uomini di cultura, di gente laureata, hanno portato l'Italia ad altissimi livelli. Ma non è successo negli ultimi 20 anni, 20 anni. Che la gente muore di fame, grida allarme e vuole la vicinanza al popolo. Perché c'è gente in adeguata che non sa dare risposte. Ma non c'è stata adeguata no adesso. Quando Messina è stata nominata... Ma no adesso, 15 anni, 20 anni sto dicendo. Non ho detto adesso. Avresti detto adesso, avresti ragione. Vabbè, in politica è la prima cosa, ho detto sempre. Prima ci vogliono i numeri e poi ci vogliono le esperienze e la capacità. Il mio contributo? Quello di impegnarmi per la città. Sballate economicamente, tra l'altro... Va bene, questo è il tuo punto di vista che io non posso rispettare. Io credo che io e i miei amici abbiamo provato a dare un contributo importante alla città. Avete provato passando da una parte all'altra con simpatie alternanti, eccetera. Tu sei un po', dico, scusami Saro, io non vorrei monopolizzare la discussione, però evidentemente stimolo in qualche maniera, come dicevo, non sono in molti... Stimolo è il dibattito. Dico, caro Saro, non mi ricordo negli ultimi 20 anni un gruppo di messinesi che abbia deciso di mettersi a lavorare tre anni e mezzo ai problemi della città e portare delle soluzioni che tu reputi inadeguate, stupide o quello che vuoi, ma che sono state frutto di tre anni e mezzo di lavoro e che sono là, quando tu avrai il piacere, Saro, quando avrai il piacere che anziché prendere... Dovrebbero solo pensare e progettare le grandi infrastrutture e lavorare per queste. Il resto ci vogliono i privati e basta, perché soldi non ce ne sono più. E chi dice che quello che abbiamo fatto non dice questo? Grazie Pizzino, grazie, grazie, grazie di Nadia. Adesso la faccio replicare. Giuseppe e Anzaliti, buonasera. Grazie a me, buonasera. Convolgiamo anche il pubblico da casa. Assolutamente sì, buonasera appunto a chi ci sta guardando. Vi ricordo i nostri riferimenti, quindi scriveteci al numero 338-9449-655, sia come sms che come whatsapp. Vi ricordo che è possibile vedere la puntata in streaming sul nostro sito, che è tcftv.it, e la nostra pagina Facebook. No, andiamo in diretta, tra l'altro. Sì, sì, nella pagina tcftv. Esatto. Cercate Malalingua, cliccate mi piace, perché ovviamente noi vi seguiamo anche lì. Mi presenti questi bei ragazzi? Allora, abbiamo i nostri sponsor, Nino Ferro, di AF Selezioni, e poi abbiamo Francesco Giuliano, che è il nostro specialista della climatizzazione e il nostro Saro Pizzino, storico sponsor anche qui. Sì, che vuole bene attinaglia. Non abbiamo capito. No, no, no. Vabbè, noi ci colleghiamo un attimo. E poi deve parlare Emilia Barrilli, perché l'hai fatto perdere il tour, non hai approfittato, ne sei preso un altro. Ci colleghiamo un'altra volta con Barbara Turati, che ci mostra un'altra realtà della città di Mesina. Credo che sia la stazione marittima. Barbara, ci sei? Sì, Emilio. Ecco qua. Io ti sento. Allora, in questo momento io mi trovo alla stazione centrale. Questo è proprio l'altra faccia della medaglia. Questo è l'altro volto del Natale. Parliamo dei senza tetto, parliamo di chi non ha nulla. Parliamo, tra l'altro, di gente che in questo momento soffre di un'emergenza particolare, che è quella a gelo. Questo sarà uno dei weekend più freddi di quest'anno, questa mattina. Al Comune c'è stata anche la conferenza stampa di presentazione del piano di emergenza freddo. Sono circa 110 senza tetto che risiedono a Messina. Ci sono diverse associazioni che si occupano di dare al loro sostegno e accoglienza. Noi questa sera siamo qui. Quello che vedete alle mie spalle è il camper del Crivop, che si occupa di dare dei pasti a questa gente bisognosa. Adesso io salirò a bordo. Prego, benvenuta. Buonasera a tutti. Carmelina, vieni qui con me. Allora, noi abbiamo qui Carmelina Salimbeni del Crivop. In questo momento le volontarie si stanno occupando di preparare e consegnare pasti, ma anche bevande calde ai senza tetto. è un servizio che svolgete ogni settimana. Come funziona? Allora, ogni settimana di venerdì sera noi siamo 12 persone volontarie, quindi un po' prepariamo la pasta a casa. Poi che ti posso dire? Noi ci sono anche dei locali che ci offrono alle 8 di sera anche dei dolci. Infatti abbiamo del bianco e nero stasera, dei cornetti, dei panini al burro. Noi passiamo attraverso questi locali e ce li prendiamo col camper. In più questi 10 volontari, 12 volontari circa, che scendono ogni settimana, preparano dei pasti a casa. Chi prepara la pasta, chi prepara i panini, chi prepara il caffè. Lo portiamo già caldo qui, così non facciamo delle file, perché se dobbiamo fare una caffettiera qui ci perdiamo tempo. Quindi abbiamo un lavoro preparativo già a casa. Quanti sono i senza tetto che si rivolgono a voi? Allora, io a volte ne conto 80 piatti, certe volte sono 90, a volte anche 70, 50. Questa sera non ce n'era in abbondanza, diciamo, come persone. Sono stati un 60 ragazzi, che poi ci sono anche donne. Sono per di più italiani o stranieri? No, sono italiani ma di più sono stranieri. Fate servizio soltanto qui nella zona della stazione o vi spostate? No, noi facciamo solo la stazione, come i senza dimoro, solo qua. Per quanto riguarda gli altri giorni della settimana, ci sono altre associazioni che svolgono questo servizio? Allora, io so coperte tutte le sere, tranne la domenica sera. La domenica forse magari è impossibile alle famiglie spostarsi. Barbara, mi senti? Tutte le sere, fino a sabato, ci sono degli associazioni che ogni sera ci sono presenti. Dimmi Emilio. Il comune cosa fa per loro? Quanto gli dà? Quanto vi dà il comune, diceva Emilio? Quellissimo. Che cosa? Che domanda? No, veramente? Ciclo, richiudi! Noi facciamo tutto da noi. Compriamo noi la pasta, il pomodoro, però giustamente quelli ci regalano. Qualcuno ci regala il pane, oppure questi, dicevo, i cornetti o qualche dolce, però i panini col pollo, oppure, che ti posso dire, la pasta col pomodoro, o se facciamo legumi, li compriamo noi. Quindi zero euro, zero, nemmeno un contributo, niente. Ho capito. Fino a oggi no, speriamo bene più in là, non posso dire. Sicuramente. Però fino a oggi ci siamo autogestiti noi e autofinanziati noi. Grazie, grazie e complimenti per quello che fate. Ci vediamo dopo, Barbara. Grazie. Grazie, grazie. Ciao Emilio, dopo. Grazie. Emilia Barrile, insomma, ha visto che queste sono realtà di volontariato. Lì abbiamo visto i volontari commercianti, no? Che quasi da soli allestiscono quello spazio. Che abbiamo visto i volontari della disperazione, della povertà, un'associazione veramente meritoria. Il suo giudizio, su quanto ha visto finora, le due facce, insomma, quella dei commercianti, quella del Corso Garibaldi, questa del volontariato, questa amministrazione, c'è, non c'è, fa, non fa, dovrebbe fare di più. Lei è il Presidente del Consiglio Comunale, tra l'altro alcune delibere passano da voi, no? In sede di bilancio avete anche la possibilità di spostare qualcosa. Prego. Allora, per quanto riguarda il Consiglio Comunale, quest'anno abbiamo messo, anche l'anno scorso, una cifra abbastanza consistente per la menza dei poveri. Infatti, i giorni scorsi hanno fatto il bando per dare, appunto, le disponibilità economiche alla menza di Sant'Antonio, alla menza di Cristo Re. Abbiamo messo quest'anno 180 mila euro, se non sbaglio, era a sesso di fare 180, sono stati, abbiamo tolti ad altre finalità e messe proprio per questo. Quali erano le altre finalità? Adesso non ricordo, ma l'abbiamo spostata proprio adesso, non mi ricordo, perché non è che i soldi si possono prendere da qualsiasi parte. Menza dei poveri, ricordiamoci, sono aumentati in maniera esponenziale, i poveri vanno lì a mangiare, parliamo dei patrirogazionisti, quindi vanno, se non sbaglio, a cena, invece se le battisti. Vanno a Sant'Antonio, a pranzo vanno a Cristo Re. Parliamo di 200 pasti al giorno, 200 pasti a... Sì, quindi noi il Consiglio Comunale quest'anno e l'anno scorso ha deciso di destinare una parte di queste somme proprio alla menza e c'è stato un accordo di tutto il Consiglio presente. Per quanto riguarda i due aspetti che abbiamo visto alla TV, certo abbiamo da un lato la gioia e dall'altro la disperazione, ma tutti e due aspetti sono Natale, sono Natale anche la voglia della gente di dare un po' di calore ai soggetti. Tutte e due vedono il Comune denominatore, il volontariato, insomma la gente che si imbocca le mani e che fa da sola. Ma questo è bello perché alla fine uno non deve aspettare che sia sempre l'altro a fare qualcosa per te. Cioè il fatto che la gente si gestisca, io non mi meraviglierei sul fatto dell'autofinanziamento dei commercianti, che secondo me ci sta, è che il Comune dovrebbe intervenire anche, e credo che l'abbia fatto, né facilitare la burocrazia perché loro possono svolgere determinate attività. Perché quando noi vediamo lì le casette che i commercianti hanno messo, ma dietro c'è tutto un lavoro di autorizzazione e burocrazia che purtroppo è immensa. Dico che spesso blocca, quindi io direi la burocrazia, allora se noi andiamo sotto l'aspetto economico della città, certo non si possono prendere 200-300 mila euro a pensare al Natale per la città, perché non ci sono queste capacità economiche, lo sappiamo tutti. Su questo senz'altro. Quindi l'autogestione di questo, anche quella di Corso Garibaldi, perché c'era mille vetrine di Via dei Mille, quindi c'è stato lo sviluppo anche da qualche anno a Piazza Chairoli, quindi c'è questa voglia di essere anche concorrenziali tra loro imprenditori. Questo è uno degli aspetti. Bisogna guardare tutti gli aspetti. Però quello che mi chiedo, nei quartieri, per esempio a Corinti quando era candidato visitava spesso l'isolato 13, Giostra, Santa Lucia, Camaro, ci sono anche associazioni che lavorano ai quartieri, le circoscrizioni che sono anche presenti nei vari quartieri, perché la realtà poi dei quartieri periferiche, io sono un consigliere circoscrizionale, sono stata, sono loro a segnalare anche... A Giostra per esempio l'avete fatto l'albero quest'anno? Ci sono, se non erro, sono gli alberi forse degli anni precedenti che hanno rimesso, che sono sempre i consiglieri di quartiere in modo autonomo nel gestirsi e nel piantare. E questa è la collaborazione che hanno fatto un lavoro immenso in tutte le... Io ho visto anche i programmi dei vari quartieri, con poco hanno cercato di fare l'attività. Però ecco, non è importante accendere le luci, l'importante è come si vive quell'accensione delle luci. Consigliere Costanzo, lei è consigliere del sesto quartiere e quindi siamo Ortoluzzo, Santo Sampo... Dottore Faro, Denzio, Di Sant'Ario... Lo stesso quartiere di Biancuzzo? Perfetto, sì. Mamma mia, quello dell'autostrada, il pedaggio? Il pedaggio. Bella battaglia. Bella battaglia, speriamo di averlo un'altra volta. E lì, per esempio, il Natale come si sta vivendo? Il Natale nella sesta municipalità, così ormai definite, è un po' spento rispetto al centro. Mi piacciono molto queste iniziative dei commercianti nel centro, delle varie vie, che è secondo me è un modello da riproporre e da ricopiare anche in futuro nelle altre circoscrizioni, formando dei tavoli tecnici prima, perché anche per esempio fra Gansiti, Torre Faro e Sant'Ara esistono dei commercianti, e perché no, con loro, in stavano il rapporto, creano un protocollo e riproporre copiando, perché a volte copiare non è un reato, dico, copiare queste belle iniziative, proporle anche in altri quartieri. Ma Torre Faro una volta non si faceva il presepe sul mare, sul mare, sul lago? C'è, a Gansiti, c'è, lo ha fatto la parrocchia, la comunità, autonomamente lo ha fatto. La Prologo Capo Peloro ha fatto una o due giorni di mercatini, purtroppo il maltempo non ha consentito una grande affluenza. L'albero l'avete fatto? L'albero nella piazza Couturio di Gansiti è stato donato dalla Confocommercio e del Caronte Turisti, come ogni anno. Quindi c'è? Sì, è nella piazza Couturio. Altri alberi, se ogni consigliere spontaneamente vuole autodassare, se ha acquistato un albero, il libro di farlo tranquillamente. Però, secondo me, più in là, in futuro si può anche riproporre quello che è stato fatto in centro, che è stato ben illuminato, carino le varie iniziative, magari immaginarle anche negli altri quartieri. Se parliamo di povertà, di emarginazione, lì, ecco, nel vostro quartiere, come siete messi? Io ho letto, proprio qualche giorno fa, un rapporto del centro dell'ascorto della Cidiocese di Messina, che dà un dato, del 2015, ancora il 2016, deve uscire, un dato molto sconfortante, soprattutto nella nostra zona. La richiesta che si fa spesso in questi centri d'ascolto è quella dei beni di prima necessità, cioè una bolletta, il mangiare, c'è, ci sono realtà. Vengono da voi al quartiere a chiedere? Vengono da voi a chiedere? Al quartiere è stato istituito un servizio di segretario sociale, perché l'assessorato ai servizi sociali ha voluto fare. Io ancora il report non l'ho letto. C'è un quartiere, se non sbaglio, quello di Morabido, che ha istituito il frigo comune, insomma, il quinto quartiere, si mette il cibo, chi ne ha di più, poi vanno e... Il cibo condiviso, il frigo condiviso. Una bella iniziativa. Voi avete fatto qualcosa del genere, no? No, non abbiamo fatto una cosa del genere. Le cozze condivise, potete dire. Le cozze condivise, che è un prodotto locale. Noi quello che abbiamo fatto, io personalmente ho cercato di portare avanti un'iniziativa che finalmente andava in porto, quello di creare un albo interno alla circoscrizione, quello di avere il quadro generale delle varie associazioni che operano nel nostro territorio. Ma un censimento delle povertà, insomma, avete contezza nei quartieri, cioè sapete quante persone hanno bisogno. Se non c'è un confronto con le associazioni, che questa associazione secondo me merita un premio, un incognito, perché fanno un lavoro straordinario, se non c'è il confronto con loro, periodico, non si saprà mai un dato ufficiale. Quella associazione, secondo me, va ascoltata, c'è il report dei pasti che servono, va registrato, va capito, non c'è questo confronto. Ecco perché secondo me le associazioni vanno ascoltate, ci sono molte associazioni... E vanno messe a rete, insomma, va creata... Va fatta una rete, le istituzioni da una parte, le associazioni dall'altra, insieme per un unico grande problema, quello che è della parola. Io so che la Caritas sta facendo un grande lavoro quest'anno a Natale, che la povertà è aumentata e ha distribuito proprio cibo, no? o delle rate alimentari. E... Nel 2014, esattamente, si chiama Rete Solidale, ed era un portale e un censimento che metteva e costruiva finalmente... Un censimento del bisogno. Sì, del bisogno e maiale anche da costruire, per esempio, così come ci sono Cristo Re e Sant'Antonio, la possibilità, con delle convenzioni che tra l'altro con Sant'Antonio abbiamo fatto, scusate, con Cristo Re, abbiamo fatto quando c'era padre Gagliotto, delle convenzioni con i supermercati, che tutto il cibo che è in scadenza lo consegnano alla mensa. Questa cosa si può replicare certamente anche in periferia, lì dove bastano spazi più piccoli, non hai 200 persone, anche perché padre Gagliotto mi diceva prima di andare via che moltissime persone non vanno alla mensa perché hanno il problema dello spostamento, perché ha un costo spostarsi. Quindi oggi sono circa 200, ed è vero che abbiamo sentito stasera che erano più gli extracomunitari presenti all'agghiaccio che non i cittadini messinesi, ma viceversa... Sempre triste, oneri o bianchi sempre triste. No, 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 voglio dire, viceversa invece, la tendenza alla mensa di Sant'Antonio e di Cristo Re, negli ultimi 5-6 anni, si è totalmente capavolta, prima la maggioranza erano extracomunitari, oggi sono molti cittadini messinesi. No, no, io sono andato, abbiamo realizzato tra l'altro una puntata con dei collegamenti e sono tantissimi nostri, insomma, messinesi, sono cittadini. Sì, mi fate sentire anche Marco Bellantone, lei è rappresentante dell'associazione Piazza Cairo, quindi la ruota la dobbiamo a lei in un certo senso? No, 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 in questo caso no, assolutamente. La ruota la dobbiamo a ConfCommercio, credo anche a uno sponsor di ConfCommercio, che la, no, no, assolutamente, l'associazione Piazza Cairo è probabilmente la causa scatenante di tutto quello che noi stiamo vedendo quest'anno, perché la causa scatenante è perché l'anno scorso, quando nacque la questione del rifacimento del parchè, il legno di Piazza Cairo, gli esercenti che oggi fanno parte e compongono l'associazione si un po' ribellarono a quella scelta che l'assessore De Cola preannunciò, ovvero sia di voler fare i lavori nel periodo tra ottobre e novembre, insomma garantendoci la consegna di Piazza Cairo entro il 24 di dicembre. Chiaramente ognuno di noi sa, più o meno commerciante che sia, che i regali di Natale non si fanno... Ma lei è con Accorinti o contro Accorinti? Io sono... E' meno male che non si chiama Spone. No, 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 per fortuna sicuramente, anche perché saprei immediatamente cosa dire. E niva male, sì. Invece quando parliamo del sindaco Accorinti... Lei non è filo Accorinti? No, non sono filo Accorinti, sono sicuramente filo messinese, mi piace la mia città, quando la giunta Accorinti fa una cosa bene mi piace applaudirla. La ruota? La ruota no, non mi piace. Non l'avrebbe messa lì? No, non l'avrei messa là, l'avrei messa da un'altra parte. Dove? Ma principalmente non mi piace il fatto che tutto sia iniziato il 15 di dicembre con aver finito l'allestimento del villaggio quasi giorno 20. Questo non mi è piaciuto. Il Natale, da quando io mi ricordo, cioè mia mamma ha 77 anni, bene o male fa l'albero di Natale e lo accende, facciamo una festa all'otto da sempre. Per me il Natale inizia all'otto, che sia Natale commerciale, che sia Natale cattolico o altro, Natale inizia giorno 8. e quindi tutti dobbiamo lavorare affinché giorno 8 sia tutto pronto. Non è possibile... E della ruota cosa non la convince? Ho capito, il ritardo è stato chiaro. No, no, non mi piace la ruota, non mi piace la ruota messa là, ma non mi piace. Ciò è un'indicazione mia. Sua persona. Sì, assolutamente. Non mi piacciono le casette che danno le spalle agli esercenti, non mi piacciono i bagni di plastica dei cantieri, che se è vero che hanno speso 200 mila euro, schermare quei bagni di plastica sarebbe stato un paio di migliaia di euro. Sono veramente brutti. Per tutto il resto, bravi tutti i commercianti, gli esercenti... Lei non critica l'entusiasmo, ma critica insomma... Assolutamente. Come si fa a vivere il Natale con uno spirito sereno? Sono un pregario e quello che vorrei trovare sotto l'albero è semplicemente un contratto serio. E ancora per fortuna ci hanno pensato i commercianti e quasi quasi il comune si è fatto anche pregare. E ancora il Natale è fatto di luci e a parte Piazza Chiroli e Via De Mille onestamente non lo percepisco per nulla. La mia sima per queste persone che regalano un po' di calore ai meno fortunati. Giussi, ci c'è un messaggio sulla pagina di Malalingua che arriva da un signore non capito bene che ha avuto un infortunio durante la vara e ci raccontava una storia particolare. Se lo trovi poi lo leggiamo perché è interessante. Va bene, noi andiamo in pubblicità quelli che noi chiamiamo Spazi di Libertà e poi vorrei sentire il Vice Sindaco Cacciova. Spazi di Libertà. E allora, Assessore Cacciola ha sentito Bellantone ha criticato Piazza Chiroli le casette danno le spalle ai commercianti i bagni di plastica la ruota un po' rumena insomma ha detto una serie di cose lei che un po' intanto devo dire che tutta l'attività che è stata organizzata in questo periodo è nata da una serie di incontri che sono stati fatti fra, come dicevo anche prima sia con ConfCommercio Confesercenti Confartigianato ma anche le varie associazioni. Al Presidente di ConfCommercio che è stato colpito da un lutto ha perso la madre noi siamo vicini al Presidente Picciotto. Prego. e quindi a seguito di questi incontri questi incontri non erano solo fra la parte politica diciamo così e le associazioni ma c'erano anche i dirigenti comunali i funzionari proprio per cercare di capire e come risolvere quei problemi burocratici che magari alle volte creano delle difficoltà lì dove anche ci sono delle iniziative private e così in questo modo siamo riusciti a far sì che l'iniziativa partisse partisse in tempo poi ci sono stati ritardi che in quel caso non sono dipesi dal Comune ma diciamo che è stato un momento di condivisione complessiva e questa secondo me è anche l'immagine se vogliamo anche per me un po' nuova della città negli ultimi anni se io ben ricordo il primo anno addirittura nemmeno l'isola petrolale in via de Mille abbiamo fatto poi pian piano ci sono state diverse iniziative grandi resistenze all'inizio ci sono state che adesso sono superate perché poi ci sono diciamo delle situazioni di conflittualità che negli anni probabilmente si sono un pochettino sono un po' diminuite e quest'anno secondo me è l'anno tipico dove mettendoci tutti allo stesso e l'anno migliore ecco voleva dire questo da questo punto di vista proprio quando state andando via ma sto da vedere no va bene nel senso che finisce il mandato finisce il mandato sicuramente e sicuramente ma Corinti sarà di nuovo candidato alla poltrona di sindaco o sbaglio questo è ancora un po' da non ve lo siete detto vabbè insomma si sa non possiamo ancora ufficializzare non ha detto nulla ufficialmente lui quindi non lui dice che come è giusto che sia che questa iniziativa che è quella di persone che stanno mettendo a disposizione della città proprie competenze metterle in campo e cercare di fare questo servizio fuori dall'ambito dei partiti questo diciamo questa iniziativa continuerà ecco questo sicuramente ci saranno molte persone come legge la critica forte che vi ha rivolto la consigliera Fenec sul bilancio credo beh lì c'è stata probabilmente qualche interpretazione non non perfettamente corretta dei tempi perché i tempi per i quali è stato presentato l'ultimo bilancio quello consolidato fra le varie partecipate non poteva che essere fatto dopo il bilancio consultivo ma non ve lo aspettavate è fuoco amico quello della Fenec diciamo che è stato un momento di sofferenza avete ricucito o si candida pure lei così come no questo non c'entra niente non c'entra niente va bene assolutamente è stato un fatto che chiaramente è circoscritto in quel momento lei lo vorrebbe candidato a Corinti io vorrei che se dipendesse da lei vorrei che questa esperienza continuasse e quindi qual è la situazione per la migliore per far continuare questa esperienza questa è quella che dobbiamo perseguire e quindi su questo stiamo stiamo facendo le nostre riflessioni o a Corinti o un altro di questa esperienza lei dice deve continuare ecco questo questo è il messaggio e poi dall'altro lei rappresenta un po' la punta di diamante di questa amministrazione la TM che sta andando a confievele adesso si è riportato Foti con grande soddisfazione di tanti come presidente queste iniziative vengono fuori anche dalla sua attività e hanno visto Confesercenti Via dei Mille Confocommercio Piazza Cairoli abbiamo fatto questo accordo anche con i commercianti abbiamo fatto un bel protocollo di intesa per l'utilizzo per l'utilizzo dei candidati che si candidano troppo in anticipo vengono bruciati vengono candidati ritiro la candidatura ritiro la candidatura di Cacciola è chiaro che è come fare una scalata stare alla cima a coppi se uno parte troppo in anticipo rischia anche di non arrivarci praticamente ma lei si se glielo chiedesse il movimento lei si candiderebbe il movimento no no il movimento insomma forse mi sono espresso male quella compagine che ha portato a Corinti su quella poltrona lei si candiderebbe? diciamo che se tutta la la compagine vede in questa soluzione la soluzione ottimale potrei anche farlo però deve essere tutta la compagine compreso ovviamente anche Renato e tutti quanti è la stessa risposta che dà a Corinti questa precisa identica non so se l'avete notato va beh pastore e confessore ha visto che sono queste realtà Messina terribili e si muove il volontariato ora lei giustamente dice io non posso giudicare quello che fanno le istituzioni però insomma un minimo sindacale lo devono fare le istituzioni certo che lo devono fare perché l'altra questione che vorrei se posso velocessivamente indicare è questo voglio dire il Natale parla di un bambino ok di un bambino che può crescere e se cresce diventa pericoloso uno dei primi eventi della della vicenda umana di Gesù è la persecuzione di Erode che è la quintessenza del potere di un potere che si sente minacciato da questo bambino perché perché questo bambino che nasce a Betlemme che significa casa del pane chiederà diventato adulto il pane e quindi i diritti la dignità per tutti quelli che non ce l'hanno e se noi guardiamo tutta la tradizione che parla dell'avvento e della nascita di Gesù noi vediamo che il Natale porta in sé tutta una critica rivolta al potere faccio un esempio il Cantico di Maria Dio è colui che innalza il povero e fa cadere dai troni i potenti un altro elemento di critica forte sta nel fatto che in qualche modo il Natale che si prende con concretezza in Gesù Cristo è rappresentato da tutta la vita di Gesù è dalle sue motto che in qualche modo riassume un aspetto del suo ministerio gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi cioè vuol dire che il messaggio dell'Evangelo come è stato detto è una memoria sovversiva perché porta dentro di sé l'idea che la costruzione della realtà di una società parte dai bisogni degli utili e non è un caso questa sera il titolo della trasmissione è un Natale diverso nel senso che ci sono tante persone che non vivono il Natale perché sono in difficoltà perché sono in povertà ma questa realtà è tematizzata dai testi della scrittura perché? perché gli eventi del Natale non si verificano in città a Gerusalemme ma si verificano in campagna fuori dalla città fuori dai centri di potere dove si prendono le decisioni importanti e qualcosa qui emerge dallo spaccato che voi state disegnando se lo stiamo leggendo bene che le cose essenziali e le cose importanti non sono fatte laddove ci sono le persone che contano dovrebbero farle certe cose paradossalmente ma le cose significative sembrano nascere o nascono dalla realtà più povera più minuta più legata alla solidarietà cioè voglio dire provo a dire questo e chiudo perché non posso prendere più tempo cioè io qui sono ormai da un pochettino di tempo e senza voler entrare nel merito di ciò che viene detto perché io non sono all'altezza di esprimere considerazioni giudizi però una cosa mi colpisce che la politica parla di persone cioè parla di se stesse di candidature di progetti di cose che faremo diremo ovviamente parla dei soldi che non ci sono delle diverse visioni ma è difficile cogliere nei luoghi dove si fa politica ma anche questo è un luogo dove si fa politica un discorso che vada a toccare i reali contenuti che riguardano le persone oggi questo viene chiamato populismo ma questo è il senso della politica perché il Natale dice che laddove non ci sarà questa attenzione vuol dire che in qualche modo le persone che hanno il compito di guidare di amministrare non lo hanno assolto se la risposta non si rende visibile a partire dai bisogni primari vuol dire che la politica non sta svolgendo la sua vocazione questo mi corregga se sbaglio Gesù stava con i poveri e criticava chi non curava questo aspetto è questo tutta la vita cioè il fatto che Cristo sia morto su una croce per opera del potere religioso e del potere politico sta a significare che quel bambino nato in una culla era già allora pericoloso la culla che è simbolo di abbassamento fa pandan con la croce e incornisce la vita di Gesù come una vita di nascondimento di conflitto perché la vita di Gesù è stata in pieno conflitto con tutte le realtà umane perché Gesù ha detto delle cose scomode e tant'è che Gesù è stato tolto via allora quel bambino intorno al quale possono e devono luttare anche i migliori sentimenti umani ha portato con la sua persona e col proprio messaggio un progetto di vita perciò dicevo prima il Natale non può essere la liturgia di un momento e per la politica non può essere soltanto il momento di metter su qualcosa che rianimi un pochettino i cittadini la politica deve fare deve assumersi una responsabilità a meglio e lungo e deve essere capace di farlo se non è capace deve riconoscerlo di non saperlo farlo è stato chiaro pastore confessore ma è giusto che un pastore o un prete facciano politica fino a un certo punto io credo che senza iscriversi ad alcun partito un credente è chiamato come cittadino a partecipare in piena coscienza e libertà alla vita pubblica esponendosi se è il caso se ha da dire qualcosa e da fare qualcosa lo fa ma questo è lo statuto che riguarda laico che riguarda tutti noi e che ci deve rendere responsabili di ciò che facciamo è chiaro è chiaro tanto ci ha raggiunto Lillo Valvieri reduce da questa performance in quel quadrato insomma vicino alla chiesa di San Giuliano tra poco lo sentiremo Palano Quero lei se si candidasse Cacciola lo voterebbe o preferirebbe a Corinti che parla le ultime elezioni ha votato a Corinti e no non mi sbaglio non mi scusi non ero nel PD o si no in realtà io ero candidato in una lista civica quindi ero iscritto al PD e lo sono ancora quindi non ha votato per loro diciamo ma questo diciamo lo lascio ormai è andata ma se si candidasse Cacciola lei come lo vedrebbe ma bisogna vedere qual è l'alternativa però io l'ho sempre detto pubblicamente voi avete sempre avuto un grande feeling non ho mai non mi sono mai nascosto io penso ho ritenuto ma ti piace anche Cacciola 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 un ottimo amministratore anche a Pizzino che è tutto dire ho detto in qualche occasione probabilmente della mia esperienza amministrativa e quindi mi riferisco agli ultimi 11-12 anni il migliore amministratore che ho avuto con cui ho avuto diciamo la possibilità di interlocuire credo che sia stato premiato anche da Malalingua ma non perché accanto a me o perché abbiamo diciamo condiviso probabilmente alcuni obiettivi ma stiamo facendo un candidato in questa trasmissione sta nascendo piano piano la candidatura di Cacciola ma perché trovandomi in alcune occasioni fianco a fianco mi sono reso conto che è una persona che a differenza di come qualcuno lo ha descritto capace di ragionare sulle cose da fare e condividerle anche collegialmente probabilmente la sua diciamo provenienza non politica non lo porta a essere molto diciamo così espansivo ma questo è un fatto caratteristico grazie grazie Palano Queiro lei la voterebbe Presidente Barrile la Cacciola? no lei sicuramente no però che cosa pensa? io non ho votato neanche a Corinti quindi non potrei votare Cacciola me ne voglia però siamo su schieramenti oggi diversi cos'è che rimprovera Cacciola a questa amministrazione? ecco siamo a Natale diversamente Natale facciamo un regalo insomma no vabbè un po' diciamo sono stati lenti nella presentazione di molti atti è vero che è mancata poca autorevolezza in tanti momenti in cui ce n'era di bisogno e questo ha portato poi a dei mancamenti che ci sono stati nella presentazione degli atti cioè parlo dell'aspetto che riguarda i rapporti tra Giunta e Consiglio quindi magari il lavoro fatto da qualche componente della Giunta è stato sminuito dalla incompetenza di molti e quindi di alcuni assessori perché di alcuni ma lui è il più competente non lo posso dire anche l'assessore Signorino è una persona abbastanza magari il lavoro fatto da Signorino su certi atti non si vede come quelli che si sono visti dall'assessore è Natale non mi voglio esprimere se no poi mi dicono sempre che sono quella che vado direttamente al centro del bersaglio quindi evitiamo evitiamo condividendola con la Presidente di Barile diciamo compagni di partito tra l'altro sì per un periodo sicuramente sì non lo neghiamo lei ha cambiato non io questo lo possiamo anche dire tu hai cambiato candidato in un momento di versaglio diciamo è abbastanza evidente però detto questo però alla comunque interlocuzione buona che abbiamo con Cacciola ce ne sono altre che purtroppo ma anche io ho avuto degli scontri con Cacciola perché siamo esseri umani però ce ne sono altri assessori con cui è impossibile noi guarda io con un assessore Cacciola sei mesi fa sei mesi fa presi un po' dal nervosismo ci siamo scontrati di brutto io e l'assessore Cacciola perché siamo persone vere e quello che pensiamo lo diciamo purtroppo non so se è un bene o un male io sono così abbiamo uno scontro molto un po' pesantuccio non ci siamo parlati e salutati per qualche mese ma l'altro giorno sabato ci siamo seduti tutti e due lo stesso talo senza abbracci abbiamo portato un atto importante per la città insieme facendo fotocopie condividendo l'atto e portando in aula quindi la nostra una pace ritrovata natalizia una pace abbiamo guardato l'interesse in quel momento che era necessario avere consigliere consigliere Presidente Barrile l'attenzione di questa amministrazione che è rappresentata da Cacciolo che è vice sindaco nei confronti degli ultimi noi parliamo di Natale diverso il titolo diversamente Natale magari per quello che ha predicato il nostro sindaco in campagna elettorale e che continua a predicare di fatto è mancato cioè per l'importanza che lui ha dato agli ultimi nella praticità degli atti l'ha dimostrato molto poco perché ci sono stati forse problemi più grandi che lo hanno coinvolto e quindi potrebbe o doveva forse fare di più anziché andare a fare rappresentanza su altro dedicarsi a ciò che lui veramente credeva e che l'ha portato lì questa è una mia opinione personale come casa Zio Vincenzo dico lui è stato quello che l'ha voluto fare però è stata fatta e un po' abbandonata io chiederei oggi al sindaco da quanto tempo non va a casa di Zio Vincenzo magari ecco questo è quello che manca o quante volte è andata alla mensa dei poveri in questi anni magari preso dai suoi viaggi che forse lì ci vuole il mio collega Triskitta e ne ha fatto qualcuno in più e lo poteva anche evitare quello del kit non entro nelle probleme perché queste sono cose giusto per giocare o per fare un po' di comicità e in momento la città ma lei voterà per Triskitta o per un altro io voterò per il candidato della mia della mia coalizione Triskitta è capogruppo come? io voterò il candidato scelto dalla coalizione non dal singolo esponente di una coalizione Triskitta è un altro candidato può darsi che ce ne siano più di uno vediamo oggi il nostro onorevole De Luca che già è uscito dall'UDC perché si vuole candidare a Silvio lei lo voterebbe De Luca? io non voterei oggi come oggi nessuno perché tutti vengono a Messina a dire io sono il candidato di Messina gente che magari non è messineso gente che è messinese e giocano sulla città perché credono che le potenzialità del messinese siano scadenti e quindi si permettono andare a dire io sono il sindaco e posso governare la città come se la città fosse facile a governarla si voterebbe voterebbe per lei stessa si la farebbe no no perché per fare il sindaco ci sono molti compromessi soprattutto quando si appartiene a coalizione o anche a movimenti perché anche a Corinto è dovuto scendere a compromessi perché noi ricordiamo prima c'era un unico componente cambiamo e si è da basso oggi noi abbiamo indietro non si torna e cambiamo e si è da basso che tra di loro ci sono stati ostilità fuori scena uscite dalla giunta quindi alla fine anche dentro l'odio c'è stata una spaccatura io mi ricordo qualche puntata fa sono stata qui e c'è stato indietro non si torna che sono stati un po' polemici con l'amministrazione a Corinto quindi un po' adesso cambiamo indietro cambiamo benzina dal basso adesso è più di un esponente dello stesso la devo interrompere vediamo dove ci porta la nostra Barbara Turati Barbara ecco dove siamo sì Emilio prego prego allora io in questo momento mi trovo per strada stiamo facendo il servizio di ronda con Ernesto Miano e con il NOE il nucleo operativo emergenze che segue ogni venerdì sera queste persone consegnando loro coperte dando beni di conforto laddove possibile sì noi siamo un'associazione di volontariato che già da 4 anni che svolgiamo questo servizio il venerdì sera abbiamo una sorta di mappatura per quanto riguarda i senza fissa dimora che sono in giro per la città e niente noi cerchiamo di dargli un piccolo conforto dalla coperta al caffè caldo a te caldo ci autogestiamo come d'altronde è dovuto come tante altre associazioni cerchiamo di coordinarci in maniera tale per coprire tutta la settimana e niente quindi stasera stesso che c'è una serata piuttosto pesante come sempre cerchiamo di dargli anche una parola di conforto Barbara posso fare una domanda mi sente Ernesto Miano? mi sente? sì Ernesto buonasera Ernesto ciao buonasera a tutti complimenti per il lavoro che fate volevo chiederle voi portate conforto a chi sta fuori a chi non ha un posto un tetto ma chi non ha un pasto da mettere a tavolo e magari sta a casa magari sotto sfratto ci pensate anche? allora noi personalmente non distribuiamo i pasti ma sempre per quelli del venerdì sera alla stazione c'è un'associazione che eroga i pasti caldi che si chiama Crivo per questa associazione che noi collaboriamo ovviamente quindi loro pensano al pasto caldo noi portiamo dai giacconi alle coperte infatti i giacconi giubbotti sciarpe cappelli li distribuiamo in loco nel senso lì alla stazione poi a un certo orario cerchiamo di girare per la città per dare la coperta perché spesso le persone non hanno le coperte per ovviamente Ernesto quanto è cresciuto il livello di povertà in questa città? quanto è cresciuto il livello di povertà? ma guarda in questi anni ti faccio l'esempio degli ultimi due anni ecco se due anni fa ci potevano essere per quello che noi facciamo che ne so 30-40 senza fissa dimora oggi sono censiti all'incirca un centinaio un centinaio quindi sono raddoppiati scusami Emilio io magari tornerei dopo da Ernesto perché siamo riusciti a insomma dialogare con uno di queste persone si tratta di una coppia ovviamente gli daremo un nome di fantasia che hanno accettato di raccontarci la loro storia ovviamente sono coperti perché insomma come nello stile di malalingua e della nostra televisione vogliamo tutelarli il più possibile gli daremo dei nomi di fantasia che sono Marcello e Graziella loro sono una coppia di fatto Marcello da quanto tempo vivi sulla strada? 12 anni perché sei finito in strada? perché non ho più niente del lavoro né niente tu prima svolgevi un'attività lavorativa regolare e adesso invece ti ritrovi qui per strada quanto è dura la vita sulla strada? è bruttissimo non è facile ma anche per le persone che ci sono che passano che non conosciamo però bisogna sapere difendere anche una certa persona Graziella tra l'altro la sua compagna non sta bene ha dei problemi di salute da quanto tempo vivi in strada? da 3 anni so che il bronchire avete mai pensato di rivolgervi a una struttura a una casa di accoglienza a dormire in un dormitorio piuttosto che restare in strada? ci siamo stati sia io che lei non vi siete trovati bene? non tanto perché non sento io una una famiglia delle persone strane che mi guardano controllo tipo carabriere e a me non mi piace come natura mia personale non mi piace essere sottomessa agli altri io Emilio non abuserei oltre della loro pazienza e vi ringrazio Barbara grazie di averci raccontato questo regalo di Natale questa sera grazie di averci raccontato anche questa realtà grave che insomma viviamo in questa città grazie Barbara puoi rientrare a casa grazie a voi una buona serata grazie buonanotte prego prego si dice spesso Renato non è andato qua o non è andato dall'altra parte io devo dire che lui è andato in tanti posti magari non si sa che sia andato perché non ha fatto una pubblicità per essere andato a casa di Vincenzo o in altri posti per cui ecco dire con certezza non è andato all'isolato 13 o altro mi sembrano le volte delle affermazioni così un po' esagerate e devo dire che lui ha ha seguito sempre questo percorso di vicinanza rispetto agli ultimi è chiaro che viene fatto non certamente sempre a luci accese perché forse non c'è bisogno che sia che venga fatto a luci accese il fatto che che lui non lo renda noto non significa che non lo faccia ecco è giusto una parentesi che mi sembrava doveroso dire bene noi abbiamo un altro stacco pubblicitario che chiamiamo spazi di libertà che ci consentono di parlare e di vedere tutto quello che abbiamo visto questa sera di ascoltare tutti voi è stato un dibattito molto tranquillo così doveva essere l'avevo promesso in clima in clima no perché le ultime due puntate sono state davvero esplosive sia quella sul teatro che quella sulla sanità insomma che poi avrà degli strascichi giudiziari non per noi spazi di libertà diversamente Natale ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione Giussi abbiamo messaggio o stavi parlando col tuo fidanzato no il telefono stavo parlando con il telespettatore che messaggio abbiamo il microfono il microfono sì no Bell'Antoni quando prende il microfono non lo lascia più è così allora ci scrivono questa storia dei numeri dei numeri deve finire le persone sono persone non sono numeri si riferisce alla questione dei voti ricercati questa storia di avere il voto in cambio di favori in cambio di molliche in cambio dell'asfalto rattoppato del lampione a cui viene cambiata la lampadina sotto le feste deve decisamente finire ed ancora la Presidente Barile come spiega chiedono la diminuzione della popolazione messinese perché se ne vanno tutti Piazza Cairoli è un altro esempio di cose fatte senza pensare al di fuori di una visione generale e ancora ne stanno arrivando quindi li sto leggendo man mano che arriva mi reggi quello di Malalingua quello di quel signore che mi ha fatto pensare insomma mi ha rattristato oggi prego ci scrivono sulla nostra pagina Facebook c'è chi reso invalido da un intervento che neanche si doveva fare e passa il quarto Natale da invalido senza sussidi senza invalidità buttato in un letto pensando forse era meglio crepare sotto i ferri che vivere così ma racconta una storia diventata invalido tirando la vara poi non ho capito bene lo dice? scrive scrive un messaggio abbastanza lungo nominiamo la clinica naturalmente attenti ci becchiamo la querela si? no non dice nulla si va bene noi lo invitiamo in trasmissione poi vediamo se possiamo parlare di questa storia perché mi pare molto triste sentiamo Giuliano Giuliano da commerciante cos'è che le piace e cos'è che non le piace di quello che è stato organizzato per questo Natale ma ciò che ho visto a Piazza Chirole ho visto poca eleganza questo è quello che mi ha colpito cioè vestiti male quelli che vanno a Piazza Chirole no 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 poca eleganza nella creazione di quello che è stato dalle casette i bagni che sono fronte ai negozi quindi io credo che i negozianti stessi non siano particolarmente soddisfatti la ruota in un altro punto sarebbe stato più gradito ripeto poca eleganza Piazza Chirole dovrebbe essere la piazza dove le persone fanno la passeggiata questa è l'immagine della casetta di Papo Natale credo delle vetrine di via Garibaldi sì credo di sì quindi niente bocciata Piazza Chirole no bocciata no promossa l'idea allora promossa l'idea come ad esempio anche le casette lo slow food che era stato organizzato va bene in altri periodi dell'anno però nel periodo di Natale Piazza Chirole doveva essere come d'altronde era stato fatto anche l'anno scorso un punto dove le persone passeggiando dalla via De Mille potevano andare su Piazza Chirole e lì nel contesto dei negozi e quindi andando a fare shopping nei negozi potevano i bambini stare in piazza in maniera tranquile grazie Giuliano sentiamo Lillo Valvieri che è tornato prima l'abbiamo sentito parecchio arrabbiato però capiamo ci piace questo tipo di rabbia nel messiese che è la stessa che contraddistingue anche Bellantone più che una rabbia è una voglia di emergere emergere parla del Corso Caribaldi non parla della persona Corso Caribaldi perché è una via importante è una via storica vi sentite trascurati un po' è abbandonata via Caribaldi è una via abbandonata figuriamoci le vie interne tranne dai topi i topi non vi lasciano mai sì perché noi in pratica con tutti quanti gli associati abbiamo fatto una riunione e abbiamo visto che ci sono ovviamente si dovrebbe fare da 15 anni che non si fa una derattizzazione perciò noi cercheremo di fare valere anche questo potremmo fare sparare i vigili urbani ai topi sì sì li facciamo uscire e sparano ai topi poi per quanto riguarda gli alberi che ce li abbiamo dentro casa perché noi abitiamo pure lì oltre ad avere il negozio parliamo di fioriere le panchine parliamo di la pavimentazione si dovrebbe ripristinare perché quella è sempre una pavimentazione che dove il terremoto l'hanno posizionata lì in via Garibaldi e noi i commercianti lotteremo con tutte le nostre forze non siamo politici non ci interessa la politica ma a noi interessa soltanto le persone a Corinti destra sinistra i litigi non ci interessano a noi interessa soltanto un'unione di destra sinistra e si deve aiutare a Corinti da parte della regione lo devono aiutare perché noi siamo con chi fa non con chi non vuole fare è chiarissimo è stato chiarissimo bravo Lillo Valvieri continuate così ci sono prossime iniziative che vorrete fare nei prossimi abbiamo delle iniziative molto importanti non le riveli non le riveli non le riveli non le riveli una zallata per altri può essere anche un divertimento per i bambini un divertimento per quelli più grandi anche se io non ho avuto il coraggio di salire penso che salirò è salito ma hanno detto che è sceso sono sceso perché suo figlio si spaventava le cose di Messina vanno gustate non vanno criticate bravo anche nei loro difetti bravo bravo Rillo Valvieri bravi ai commercianti delle vetrine di via Caribaldi Bellantone con Lillo passa un'ottima amicizia ci confrontiamo mi prege di confrontarmi mio figlio dice non siate troppo sdolcinati no 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 è proprio così non c'è io ho detto che noi a Piazza Chairoli siamo riusciti ad avere un po' di decontribuzione ovvero sia siamo riusciti ad avere degli sconti sui tributi sulla cosa nello specifico per investimenti che abbiamo fatto su Piazza Chairoli chiaramente c'è un iter da seguire però è una strada già rappresentata si può calcare quindi vi do questo ulteriore stimolo a fare visto che tu sei uno che fa che voi siete persone che fate siete 28 siete tanti utilizzate questa strada perfetto grazie volevo aggiungere qualcosa Bellantone in generale un argomento a piacere argomento a piacere no 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 ne abbiamo presi tanti argomenti vanno bene così presidente Presidente Barrile cosa si augura per il 2018 noi siamo quasi in chiusura di trasmissione cosa augura ai messinesi per il 2018 e cosa augura al suo partito che è il Forza Italia di scegliere un candidato giusto non lo so dica lei io mi auguro che in Argentina ci sia gente che voglia bene veramente alla città che la senta propria e che cercano di non criticare ma di migliorare di curare di costruire qualcosa di positivo per la nostra città e che i politici non si ricordano della città i sei mesi prima ma lei è pure politica io sono pure un politico io parlo dei politici perché io mi sento non parla come se fosse altro no perché io mi sento sempre come provengo della circoscrizione quindi ho iniziato la mia esperienza dal quartiere oggi sono il presidente del consiglio quindi non mi rendo conto che sono anch'io un politico spesso mi confondo le idee però sono sicura che quello che voglio fare è quello che ho intenzione cosa vuole fare da grande lei vuole candidarsi al Parlamento Nazionale o cosa ha intenzione di fare adesso sta finendo intanto faccio il presidente poi vedremo siamo alla fine quello che ci saranno nei vari equilibri è normale che non dico la mia giovane età ma visto la mia carriera politica l'ambizione non mi ha abbandonata quindi sono un soggetto inutile negarlo ambizioso spero di crescere e di portare avanti ciò che che ho nel mio cuore certo mi piacerebbe quindi sindaco ha detto no la carica di sindaco non le interessa rimane il Parlamento Nazionale rimane il Parlamento potrebbero rimanere anche altre candidature non per forza al Parlamento posso ritornare a fare il presidente della circoscrizione così sarò pure concorrente al mio collega si torna indietro non ci credo io non mi ricandido di raglia cosa augura ai messinesi auguro di cambiare approccio rispetto a questo tema nazionale sento parlare di candidature io scelgo questo io scelgo quello io invece credo che basterebbe cominciare a valutare i risultati semplice chi fino ad oggi amministrando questa città se questa città ha un crollo demografico culturale economico semplicemente dovrebbe andare a casa tutti non soltanto negli ultimi cinque anni e dare spazio ad altri semplicemente perché questa gente ha dimostrato la capacità non è un problema di destra sinistra centro simpatia antipatia i più bravi quelli che hanno capacità quindi picciolo compreso picciolo compreso il suo leader non è il mio leader picciolo è un mio carissimo amico una persona che ha provato a fare e non ha raccolto per quello che ha fatto in queste elezioni lei boccia pure picciolo questo volevo dire io no picciolo ha lavorato perché ha portato contributi ha portato contributi e soldi ovunque veramente picciolo ha salvato i posti dovrebbero andare tutti a casa non salvo nessuno io dico che chi no no io ho detto un'altra cosa cerco di essere più chiaro dico che chi ha sbagliato chi non è riuscito a portare miglioramenti oggettivi cioè non ha dato risultati alla città deve semplicemente mettersi da parte il problema non può essere ma quindi parla di Accoritti in pratica no no io parlo di tutti io dico semplicemente che quando tu vai a fare valutazioni non può essere quella su chi è il candidato chi si candida e dove ti candidi il problema è partire dai dati drammatici di questa città e capire come si fa a risolvere i problemi e non ragionando sulla collocazione di Dio Sio di Caio ma io sono su tutte quelle cose che possono servire a creare sviluppo economico e a liberare questa città dal bisogno tutte quelle che possono servire che altrimenti è inimmaginabile parlare di altro cioè tutte le questioni di cui parliamo la ruota è bella è carina è bellina sì ok ma il problema sostanziale ho avuto piacere stasera non conoscevo il pastore ascoltarlo credo che gli stimoli che ci abbia dato non lo impediamo a caso no no siano quelli da quali bisogna parlare partire non è un problema di fare politica in modo diciamo se ti candidano non ti candidano tutti dobbiamo fare politica dobbiamo partecipare ma soprattutto dobbiamo scegliere per una volta non il cugino candidato perché può avere un posto di lavoro non un amico perché ci fa simpatia ma scegliere provando a capire chi ha quella capacità e qualità e scegliendo non per il favore ma perché quella persona può veramente cambiare la storia solo una cosa domani mattina sabato? domani mattina dobbiamo cominciare a trasferire ai nostri cittadini che la croce che si mette quando si va a votare determina o meno il fatto che gli amici parenti che scappano da questa città possono tornare quello è l'elemento se non si contiene il valore del voto il valore è che non puoi andare a votare senza sapere chi voti cosa vuole fare se ha capacità se nella sua vita quelle cose che parla le conosce le ha fatte le può fare dico c'è tanta di quella gente in questa città che potrebbe cambiare la storia grazie spazio di libertà allora noi siamo in chiusura abbiamo gli ultimi due minuti dobbiamo giocarceli bene e dovete rispondere in maniera secca chiedo Massimo Costanzo cosa auguro ai messinesi sicuramente tanta serenità e gioia e tranquillità familiare e soprattutto un'attenzione particolare a quegli operatori che stanno sulla strada e che aiutano il prossimo senza dimenticare che c'è tanta gente che ha bisogno veramente e non lo dico per retorica a casa pure magari che non sta fuori esatto soprattutto grazie grazie Costanzo Pizzino cosa voleva dire se lo dice velocemente cosa auguro ai messinesi i messinesi auguro che ci siano più possibilità di lavoro per tutta una serie di cose tra le quali quella che il voto non sia venduto comprato a 30 euro perché il cittadino capisca il valore e la forza che ha nelle mani Palano Quero Francesco ma io auspico che lo spirito che qui rappresenta Lillo ma non perché Lillo qui ma che comunque si è visto anche in altri territori della nostra città in questo in quest'ultimo scoccio in questo frangente natalizio di comunione al di là delle appartenenze possa in qualche modo nel 2018 essere lo spirito trasversale per dare una prospettiva e una progettualità a questa città che in questo momento purtroppo non riesco a vedere grazie Bellantone cosa auguro veloce pace, amore e concretezza perfetto il pastore confessore però vorrei che a Messina si stauri prenda vita uno spirito per il quale non si vede nell'altro un antagonista un avversario una minaccia ma che si stauri una dimensione di solidarietà e di fraternità civile a tutti i livelli e qui bisogna abbandonare l'egoismo a tutti i livelli e l'interesse strettamente personale deve lasciare spazio all'interesse pubblico belle cose però bisogna farlo grazie grazie io volevo fare uno spot per la chiesa valdese che è rappresentata dal pastore confessore che proprio accanto al teatro Vittorio Emanuele organizzano delle bellissime iniziative dei dibattiti dei concerti hanno anche un'attività culturale molto importante che io invito i messinesi a seguire con attenzione vi ho fatto questo spot con grandissimo cuore assessore Cacciola lei aveva anche un annuncio importante da fare stanno arrivando dei nuovi vigili tanto che grazie appunto all'impegno che c'è stato in queste ultime settimane siamo riusciti a chiudere finalmente anche l'acquisizione di questi dei vigili che chiamiamoli concorsisti si chiamavano così un tempo ora abbiamo fatto un contratto a tempo determinato che diciamo è abbastanza lungo non solo i cinque mesi tradizionali ma arriviamo chi arriva a un anno e mezzo chi a due quindi diciamo sicuramente tutto il 2018 quindi visto che parliamo del prossimo anno avremo 21 vigili in più nel 2018 21 vigili in più a tempo determinato a tempo determinato un anno sono chi un anno e mezzo chi due anni però diciamo che per il 2018 ci sono una bella notizia cosa augura i messinesi e il sessore Cacciola di avere come candidato sindaco lei riprendo le parole del pastore e le racchiudo in un unico concetto vivere in comunità è un concetto che richiamo appunto che quando tu vivi in comunità di fatto hai un grande rispetto dell'altro e cerchi di diciamo di fare quei passi indietro su te stesso per cercare di raggiungere insieme tutti gli obiettivi chiaro grazie a sessore Cacciola Giuseppe Danzariti cosa augura ai messinesi per il Natale perché noi ci rivediamo il 29 sicuramente mi unisco ai nostri ospiti tanta serenità e soprattutto pace nelle famiglie nelle famiglie perché se si ha pace dove si ritrova la guerra nelle famiglie molto spesso sì perché i problemi della vita poi vuoi non vuoi creano delle difficoltà e quindi questa è la cosa penso fondamentale grazie a Giuseppe che non ti aspetti grazie buon Natale Giuseppe buon Natale a tutti i nostri ospiti grazie di essere stati qui con noi e buon Natale complimenti all'associazione vetrine di via Garibaldi che prendano esempio gli altri da voi e buon Natale a chi ci ha seguito da casa e per te per me per la figlia dell'Ure e per te per me e per te per me per la figlia dell'Ure la taranta perché amò e ti pisica lupo a chi ci ha Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.